carissimi amici e amiche bentornati a una nuova puntata del ciclo di catecati sul peccato originale abbiamo cominciato a seguire un po quello che sul peccato originale scrive maria valtorta ciò che il signore gli avrebbe rivelato la volta scorsa è stata un po una catechesi introduttiva l'antefatto del peccato originale degli degli spiriti angelici quindi dei diavoli di lucifero oggi vedremo il primo brano dove si parla espressamente almeno il primo brano forse anche il secondo vediamo quanto tempo ci mettiamo dove si parla espressamente di cosa è successo con la tentazione e il mangiare il frutto proibito io non faccio introduzioni troppo lunghe passo la lettura del testo direttamente e poi lo commentiamo e lo vediamo insieme allora sono dettati e riguardanti il peccato originale contenuti nei quaderni nel 1944 e che poi sono stati annessi all'opera come commenti di alcuni passaggi di essa 5 marzo 1944 dice gesù non si legge nella genesi che dio fece l'uomo dominatore su tutto quanto era sulla terra ossia su tutto meno che su dio e suoi angelici ministri non si legge che fece la donna perché fosse compagna dell'uomo nella gioia nella dominazione su tutti i viventi non si legge che di tutto potevano mangiare fuorché dell'albero della scienza del bene del male perché quale sottosenso è nella parola perché domini quale in quello dell'albero della scienza del bene del male ve lo siete mai chiesto voi che vi chiedete tante cose inutili non sapete chiedere mai alla vostra animale celesti verità primo pit stop di commento no vedete il signore comincia a sollecitare l'intelletto e le coscienze abbiamo già visto nell'antefatto nelle premesse che la favoletta del pomo non regge allora gesù dice leggi con attenzione quando leggi la sacra scrittura albero della scienza del bene del male già qui ti fa capire che non è che c'è un albero del bosco con un frutto come dire reale no albero della scienza del bene del male vuol dire che mangiare quel frutto è acquisire tu autonomamente la scienza del bene del male acquisirla da te non riceverla da dio e tra l'altro nella versione soltanto del bene perché dio non comunica scienza del male la scienza del male la comunica qualcun altro per conoscerle tutte e due tu devi andare necessariamente a farti ammaestrare anche dall'altro perché dio ti ammaestra nel bene nel male non t'ammaestra quindi primo input no e poi l'uomo domina in che senso su cosa o su chi in particolare qual è l'ambito umano fondamentale di dominio che cos'è per l'uomo essere un dominatore stiamo parlando dello stato di giustizia originale quindi dominare su chi su che cosa domande dice imparate a farvi domande intelligenti e non andarvi a chiedere cose inutili perché l'intelligenza nostro signore così come la coscienza ce la date perché impariamo a farle funzionare bene e non a stancarle appunto in cose inutili o che non servono a niente andiamo avanti con la lettura la vostra anima se fosse viva ve le direbbe essa che quando è in grazia è tenuta come un fiore fra le mani dall'angelo vostro essa che quando è in grazia è come un fiore baciato dal sole è irrorato dalla rugiada per lo spirito santo che la scalda e la illumina la irriga e la decora di celeste luci quante verità vi direbbe la vostra anima se sapeste conversare con essa se la amaste come quella che mette in voi la somiglianza con dio che è spirito come spirito è la vostra anima quale grande amica avreste se amaste la vostra anima in luogo di odiarla sino ad ucciderla quale grande sublime amica con la quale parlare di cose di cielo voi che siete così avidi di parlare e vi rovinate null'altro con amicizie che se non sono indegne e qualche volta lo sono sono però quasi sempre inutili e vi si mutano in frastuono vano o nocivo di parole tutte di terra non ho io detto chi mi ama osserverà la mia parola e il padre mio lo amerà e verremo presso di lui e faremo in lui dimora l'anima in grazia possiede l'amore possedendo l'amore possiede dio ossia il padre che la conserva è il figlio che la maestra lo spirito che la illumina possiede quindi la conoscenza la scienza e la sapienza possiede la luce pensate perciò quali conversazioni sublimi potrebbe intrecciare con voi la vostra anima sono quelle che hanno riempito i silenzi delle carceri i silenzi delle celle i silenzi degli eremitanti silenzi delle camere degli infermi santi sono quelli che hanno confortato i carcerati in attesa di martirio i claustrati alla ricerca della verità i romiti anelanti alla conoscenza anticipata di dio gli infermi alla sopportazione ma che dico all'amore della loro croce secondo pit stop vedete come il signore dice chiediti tu che stai ascoltando questa povera catechesi tu sai conversare con la tua anima hai interiorità sei capace di stare in ascolto del tuo cuore o stai sempre a chiacchierare amicizie che quando non sono nocive sono inutili le chiacchiere vane attenzione sai custodire la tua anima in grazia perché le belle conversazioni si fanno con un'anima in grazia dove il signore ci ha spiegato abita la santissima trinità il padre la conserva il figlio la maestra lo spirito la illumina quante cose belle che ci direbbero nostra anima ci siamo mai chiesti ma cosa stanno facendo cosa fa una suora in clausura cosa fa un'eremita che vive completamente da solo cosa fa un cristiano incarcerato perché perseguitato cosa fa un monaco o un frate o una suora chiuso dentro la sua cella che fa come mai non non impazziscono questi qui cosa fa uvo sapesse quante cose che fa allora anche noi viviamo certamente no nel mondo però noi dobbiamo avere degli spazi dobbiamo parlare di avere degli spazi per noi degli spazi di silenzio che è una delle cose più belle i momenti in cui si riflette si pensa si medita si parla oltre che con dio con la nostra anima che ci dice tante cose belle da parte del signore quante volte io cerco di sollecitare amici dovete tutti imparare ad ascoltare il cuore ad ascoltare la coscienza non c'è sempre non ci deve essere sempre come dire la balia che ti imbocca che ti dice fai questo fai quest'altro fai questo fai quest'altro fai questo fai quest'altro anche chi cerca il padre spirituale padre spirituale non serve a questo un padre spirituale che comincia a dare indicazioni troppo precise non fa un buon servizio all'anima perché perché il padre spirituale non è possibile e non è possibile e non deve stare h24 o deve essere chiamato 400 volte al giorno che faccio qui che faccio immaginate che scena ridicola no io personalmente quando vedo che una persona comincia ad appiccicarsi un po troppo a sottoscritto che la chiamo un po troppo comincio a ma non perché per il bene della persona perché se la mia persona diventa un aiuto quindi un aiuto discreto fruttuoso va bene ma se diventa una sorta di sostituto del padre eterno o persona a cui uno si appiccica perché ha proprio io devo fare un passo indietro per il bene della persona perché certamente sono le persone a volte che sbagliano ma noi dobbiamo fare attenzione a non favorire o non avallare o approvare o anche soltanto a volte tollerare lasciar correre gli sbagli senza intervenire vabbè andiamo avanti se sapeste interrogare la vostra anima ecco che gesù comincia a affrontare il primo punto essa vi direbbe anzitutto che il significato vero esatto vasto quanto il creato di quella parola domini è questo prima rivelazione perché l'uomo domini su tutto su tutti i suoi tre strati lo strato inferiore cioè quello animale lo strato in mezzo quello morale lo strato superiore quello spirituale e tutti e tre rivolga in un unico fine possedere dio quindi qual era il dominio su tutto è il dominio di sé essere padroni di se stessi possederlo meritandolo con questo ferreo dominio che dobbiamo esercitare anche adesso siamo in quaresima no a che serve il digiuno digiuno serve che sul mio corpo comando io non comanda lui a me comando io a lui lo decido io se quando e quanto e come mangi non io non non mi lascio trascinare dagli impulsi dallo stomaco dalla gula no no faccio penite sì faccio penitenza come dice san paolo prendo il mio corpo lo riduco schiavitù e lo tratto duramente perché non mi lascio io che sono una persona intelligente dominare dalla parte più bassa di me ma io la domino la parte di medio il morale dove si stanno le passioni le domino le domino con l'aiuto della grazia di dio evidentemente qui gesù sta parlando di gente che stava nello stato di giustizia originale quindi dove il dominio di queste cose era perfetto e l'hanno perso e il peccato originale centra con questa con questa problematica andiamo avanti un ferreo dominio che tiene soggette tutte le forze dell'io dell'io e le fancelle di quest'unico scopo meritare di possedere dio il fine della nostra esistenza vi direbbe sempre alla vostra anima che dio aveva proibito la conoscenza del bene del male perché perché il bene lo aveva erargito le sue creature gratuitamente lo dava lui e il male non voleva che lo conosceste perché frutto dolce al palato ma che è sceso col suo succo nel sangue ne testa una febbre che uccide e produce azione per cui più si beve di quel succo mendace più se ne ha sete altro pit stop una cretinata che ormai va di moda da 60 anni 70 anni e che purtroppo a volte se la beve anche qualche educatore o qualche genitore è che bisogna fare esperienza bisogna fare esperienza esperienza di cosa è una delle persone devono fare i propri sbagli bisogna lasciarli fare i propri sbagli perché dagli sbagli si impara che dagli sbagli si impara certamente ma l'imparare dallo sbaglio come dire è una cosa accidentale ma gli sbagli se possibile bisogna evitare di farli perché non c'è niente di positivo dal fare uno sbaglio dal commettere un peccato oggi l'annunciazione ma che per caso la madonna dice vabbè fammi provare com'è un peccato d'accordo poi però tanto non lo faccio più però fammi un attimo vedere come come vi un peccatore dal dal di dentro vediamo un attimo tanto poi non lo faccio più ma stiamo scherzando stiamo il mare non si deve conoscere neanche per curiosità adesso per curiosità voglio un attimo vedere questa cosa non vedere proprio niente capiamo insomma che differenza di di mentalità che c'è rispetto a quella attualmente dominante no a voi obietterete e perché ce l'ha messo il male e perché dice Gesù il male è una forza che è nata da sola come certi mali mostruosi nel corpo più sano chi fa riferimento lo vedremo subito a lucifero ecco perché c'era l'antefatto lucifero era angelo il più bello degli angeli spirito perfetto inferiore a dio soltanto quindi prende le cose che abbiamo visto estesamente la volta scorsa eppure nel suo essere luminoso nacque un vapore di superbia che esso non disperse ma anzi condensò covandolo e da questa incubazione è nato il male con la m maiuscola esso era prima che l'uomo fosse e con il che il signore ci sta dicendo che gli angeli sono stati creati molto prima degli uomini come la tradizione della chiesa sempre pensato dio l'aveva precipitato fuori dal paradiso l'incubatore maledetto del male questo insozzatore del paradiso ma esso è rimasto l'eterno incubatore del male e non potendo più insozzare il paradiso ha insozzato la terra ma l'ha insozzata perché ha trovato qualche sciocco che gli ha permesso di farlo altrimenti non avrebbe insozzata di nuovo la festa di oggi nella dimostrazione perché ci ha provato pure con la madonna ma mi dispiace tanto con la madonna non c'è riuscito non l'ha insozzata quella metaforica pianta attenzione che qui entriamo nel clou sta a dimostrare questa verità attenzione bene qui dio aveva detto all'uomo quindi abbiamo visto il dominio è il dominio di sé e che cos'è l'albero della scienza del bene e del male quale scienza cosa c'era da sapere che Dio non voleva che l'uomo sapesse andiamo a vedere quella metaforica pianta sta a dimostrare questa verità Dio aveva detto all'uomo e alla donna conoscete tutte le leggi e i misteri del creato ma non vogliate usurparmi attenzione il diritto di essere il creatore dell'uomo a propagare la stirpe umana basterà il mio amore che circolerà in voi attenzione e senza libidine di senso ma per solo palpito di carità susciterà i nuovi adami della stirpe tutto vi dono solo mi serbo questo mistero della formazione dell'uomo allora questa è la prima grande riferazione torniamo a tutto quello che abbiamo visto perché adesso dobbiamo fare riferimenti nel pensiero dei padri della chiesa quando è nata la riproduzione sessuata secondo loro dopo il peccato originale lo stato secondo la loro maggioranza che c'era nel paradiso terrestre era la verginità ma se la verginità si deve conservare in eterno e la razza umana ci chiediamo noi oggi che non sappiamo che ci poteva essere un altro modo e qui solo dice gesù si sarebbe procreata ci penso io gli angeli li ho creati tutti quanti da solo con voi non farò così voi sarete padre e madre ma non non vi interessa come ci penso io senza libidine di senso ma per solo palpito di carità susciterà i nuovi gli adami della stirpi mi serbo questo mistero della formazione dell'uomo allora attenzione satana ha voluto levare questa verginità intellettuale all'uomo verginità intellettuale bellissimo questo questo termine e con la sua lingua serpentina ha blandito e accarezzato attenzione membra e occhi di eva suscitandone riflessi e acutezze che prima non avevano perché la malizia non li aveva intossicati attenzione a questo passaggio con lingua serpentina lingua serpentino ha blandito e ha abbandito e accarezzato membra e occhi di eva membra anche con gli occhi significa che gli ha fatto vedere qualcosa no che cosa gli ha fatto vedere satana e accarezzato perdonatemi quali membra suscitando riflessi e acutezze che prima non avevano vado avanti essa vide eva e vedendo volle provare la carne era destata la carne era destata o se avesse chiamato dio se fosse corsa a dirgli padre io sono malata il serpente mi ha accarezzata proprio il serpente ora qui devo fare devo fare un riferimento che purtroppo un po' scabroso e bruttarello ma doveroso in un testo abbastanza forte che uscì qualche anno fa c'era la testimonianza di una ragazza fuoriuscita da una setta satanica tra l'altro io con molta sorpresa perché questa ragazza all'inizio della sua fuoriuscita era rimasta in anonimo tanto è vero che il libro fu pubblicato sotto uno pseudonimo si chiama michela fuggita da satan attenzione che sconsiglio vivamente la lettura di questo libro a chi non c'ha una fede a prova di bomba e uno stomaco d'acciaio perché qualcuno leggendo quel libro è uscito di testa perché si tratta di cose veramente allucinanti ma sapete cosa fanno questi qui qual è uno dei riti che fanno durante durante le loro porcherie il serpente ha accarezzato eva io non lo sapevo questa cosa qui c'è l'introduzione rituale proprio di un serpente nell'organo genitale femminile chi c'ha lo stomaco di andarsi a leggere questo libro se vuole andare a controllare vada a verificare ma guarda un po' ma guarda un po' ma guarda un po' tra l'altro fanno il giochetto che se il serpente immaginate chi si sottopone anche queste cose fuori di testa se il serpente la morde alla donna all'interno dell'organo genitale io non sono donna insomma però posso immaginare che scenetta che sia vuol dire che quella non è gradita al loro padrone se invece non gli fa niente vuol dire che quella è gradita al loro padrone e non ci si può rifiutare quando il presidente non voglio neanche dargli i nomi di questa congrega sceglie di fare questa cosa ah non ci si può rifiutare ma guarda un po' il serpente accarezza le membra di Eva ma guarda un po' io dico cioè attenzione questo è quello che dice Gesù e questo è quello che risulta dalla testimonianza di una poveraccia che si è salvata da queste cose ma che le ha viste con gli occhi suoi e le descrive le ha vissute riprendo la lettura il serpente mi ha accarezzato e il turbamento è entrato in me il padre l'avrebbe purificata e guarita col suo alito che come le aveva infuso la vita poteva infondere nuovamente innocenza smemorandola dal tossico serpentino e anzi mettendo in lei la ripugnanza per il serpente come è in quelli che un male ha salito e che i guariti di quel male ne provano un'istantiva ripugnanza ma Eva non va dal padre Eva torna dal serpente quella sensazione è dolce per lei vedendo che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi e bello all'occhio e gradevole all'aspetto lo colse e ne mangiò e comprese e comprese ormai la malizia era scesa a morderle le viscere vide con occhi nuovi e udì con orecchi nuovi gli usi e le voci dei bruti attenzione cosa gli ha fatto vedere Satana vide con occhi nuovi e udì con orecchi nuovi gli usi e le voci dei bruti bruti sono gli animali cosa gli avrà fatto vedere aguzziamo un pochino l'intelligenza che il Signore ci ha dato quindi gli mostra la riproduzione gli fa vedere l'atto con cui i due animali si stanno riproducendo questo è una mia presumo è una mia lettura però insomma e al tempo stesso la solletica si dice vedi che bello che è se va così prova valla a fa valla a fa guadamo controlla verifica attenzione vide con occhi nuovi e udì con orecchi nuovi gli usi e le voci dei bruti attenzione a questo passaggio e li bramò con folle bramosia dice no lo devo fare pure io no lo devo fare pure io assolutamente non esiste subito iniziò da sola il peccato attenzione lo portò a termine col compagno ecco perché sulla donna pesa condanna maggiore allucinante è per lei cioè per colpa di Eva che l'uomo è divenuto ribelle a Dio e che ha conosciuto lussuria e morte cioè la donna purtroppo è stata maestra di lussuria all'uomo che stava lì come commerciatore e gli uomo è sempre un pochino così no che stava con la testa per aria questo è evidentissimo dal racconto della 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 Genesi ed ecco perché ed ecco perché è così importante che nel processo della redenzione a fianco al nuovo Adamo chi ci sia ci sia una nuova Eva cioè la coppia Adamo ed Eva e la retta comprensione della dinamica del peccato originale fa comprendere la coppia Cristo-Maria gli teologi sciocchi che ancora oggi combattono contro la corredenzione combattendo una battaglia persa perché questa è una battaglia che si perderà non capiscono che è proprio comprendendo bene la dinamica del peccato originale che tu capisci che certamente certo che Gesù Cristo poteva fare tutto da solo Gesù Cristo non c'ha bisogno di niente di nessuno così come Dio non c'ha bisogno di niente di nessuno d'accordo San Luigi Monfort a proposito della festa di oggi l'annunciazione dice ma che ti credi che il nostro Signore aveva bisogno della Madonna per diventare uomo qualcuno pensa questo ci aveva bisogno Dio non c'ha bisogno di niente di nessuno ok di niente di nessuno però se sceglie di fare una cosa liberamente non perché ce n'ha bisogno è perché quella è la cosa migliore da fare se il peccato originale nasce così parte dalla donna e trascina l'uomo ed è il trascinare nell'uomo perché l'uomo è il capostibile dell'umanità che rovina il genere umano se fosse rimasto tutta quanta non succedeva niente la redenzione è un rovesciamento è un ribaltamento parte dall'uomo nuovo che è l'uomo Dio Adamo ma coinvolge anche la donna la nuova Eva che era Madonna in posizione subordinata certamente dipendente certamente non assolutamente necessaria certamente ma in quanto assolutamente conveniente scelta voluta da Dio per cui se la Madonna non avesse fatto bene tutto quello che doveva fare e l'ha fatto alla grande le cose non sarebbero andate come sono andate e noi dobbiamo essere grati subordinatamente certamente a Gesù Cristo anche a lei e riconoscerlo questo capite perché è cioè il peccato capire bene la logica del peccato originale non è soltanto come dire un discorso c'ha delle implicazioni generalissime cioè che coinvolgono tutto il patrimonio dottrinale della santa fede cattolica coinvolgono la redenzione coinvolgono Gesù Cristo coinvolgono la Madonna coinvolgono la relazione uomo-donna coinvolgono il tema della castità il tema della purezza il tema della santità del matrimonio riprendo la lettura è per lei cioè per colpa di Eva che l'uomo è divenuto ribelle a Dio e che ha conosciuto lo storio e morte è per lei che non ha più saputo dominare i suoi tre regni dello spirito perché ha permesso che lo spirito disubbidisse a Dio qui c'è stata una disobbedienza formale del morale perché ha permesso che le passioni lo signoreggiassero le passioni risvegliate sono state assecondate non risvegliate le passioni svegliate perché prima non c'erano proprio erano sotto assoluto controllo e della carne perché l'avvilì attenzione alle leggi istintive dei bruti l'avvilita vedremo più avanti che dagli scritti di Maria Valtorta risulta che praticamente quello che è successo è che l'uomo è sceso di un grado aveva una dignità superiore a quella dei bruti ma relativamente a questa cosa si è degradato cioè noi compiamo dei gesti e adesso non si può fare diversamente che ordinariamente appartengono ai bruti e sarebbero dovuti appartenere solo a loro e adesso appartengono pure alla razza umana e non ci si può fare niente nessuno ascoltando queste catechesi comincia a pensare che se fanno tutti quanti i matrimoni bianchi o che non ci si sposa più non è possibile una cosa di questo genere è per questo che c'è un sacramento l'abbiamo già detto tante volte però di fatto da quel momento in poi c'è una caduta per questo che c'è una decadenza c'è una natura si chiama così la nostra condizione dopo il peccato originale si chiama natura decaduta c'è stata una flessione c'è stata una andare in basso il serpente mi ha sedotta diceva riprendo la lettura la donna mi ha offerto il frutto e io ne ho mangiato vedete il serpente mi ha sedotta diceva la donna mi ha offerto il frutto mi ha offerto il frutto capiamo cos'è sto frutto no non è il pomo e io ne ho mangiato e la cupidigia tribice abbranca da allora i terreni dell'uomo lo spirito attraverso la superbia la carne attraverso la russuri il morale attraverso la concupiscenza impazzimento delle passioni stanno tutte quante fuori controllo prosegue Gesù non c'è che la grazia che riesca ad allentare la stretta di questo mostro spietato e se è viva vivissima ecco perché è così importante stare in grazia anzi tenerla ad elevati livelli se è viva vivissima mantenuta sempre più viva dalla volontà del figlio fedele giunge a strozzare il mostro e a non avere più timore di nulla non dei tiranni interni ossia della carne e delle passioni non dei tiranni esterni ossia del mondo e dei piacere e dei potenti del mondo per questo che i figli di Dio dico sempre in continuazione non ci hanno paura di niente di nessuno attenzione però i figli di Dio degni di questo nome figlio di Dio si è per la grazia figli di Dio in senso stretto sono i battezzati e quelli che custodiscono la grazia accrescendola sempre di più non dico pieni di grazia come la madonna ma pieni di grazia proporzionatamente a quanto lo possono essere non hanno paura dei potenti del mondo non delle persecuzioni non della morte qui sono due anni che si è terrorizzati della morte ma chi è terrorizzato della morte? chi è che ha paura della morte? un figlio di Dio ha paura della morte uno che vive in grazia se uno che non vede l'ora andassero in paradiso nessuno si suicida e nessuno approva ovviamente l'eutanasia noi siamo tutti quanti amanti della vita ma la morte non è è cominciare a vivere la vita piena non fa nessuna paura la morte a un figlio di Dio tu chiediti se stanotte il Signore ti chiamasse ci avresti qualche problema? sotto due punti di vista primo è fatto in sé secondo sei pronto a essere chiamato questa notte che effetto ti fa? provo a pensarci un attimo un minuto in qualunque momento ascolti ragazzi sia che stai ascoltando in diretta sia che ascolta in inferito tu immagina se uno dicesse stanotte il Signore via ti porta via reazione che pensi? così capisci anche il grado di grazia che c'ha che pensi? se uno dice magari meno male sta messo bene attenzione però magari meno male non da temerario quindi buone confessioni generali già fatte quindi pentiti tutti i grandi peccati riparati fatte penitenze eccetera eccetera vi suvi si vive in grazia in tensione verso la santità quindi si può sperare anche che la purificazione insomma non sia troppo lunga e troppo dolorosa se no uno se no uno è matto ecco non è santo è matto e come dice l'apostolo Paolo qui vedete Gesù io di queste cose non ne temo nessuna né tengo alla mia vita più di me purché io compio la mia missione e il ministero ricevuto dal Signore Gesù per rendere testimonianza al Vangelo della grazia di Dio ok ci abbiamo ancora un pochino di tempo c'è un altro brano molto importante non lo so se riusciamo a finirlo però ce lo prendiamo un altro po' di tempo in modo tale che non aumentiamo di troppo le puntate di questa catechesi se non lo finiamo ci mettiamo punto e poi lo riprendiamo a Dio piacendo la prossima settimana stiamo all'8 marzo 1944 e qui parla Maria nella festeggiata di oggi dice Maria nella gioia perché quando ho compreso la missione a cui Dio mi chiamava fu ripiena di gioia il mio cuore si aprì come un giglio serrato e se ne fuse quel sangue che fu zolla al germe del Signore la leggiamo perché si parla proprio della festa di oggi guardate che Dio incidenza bellissima gioia di essere madre io mi ero consagrato a Dio fin dalla prima età perché la luce dell'altissimo mi aveva illuminato la causa del male del mondo attenzione a questa espressione perché la Madonna fin da piccola fa il voto di verginità perché la perché la luce dell'altissimo mi aveva illuminato la causa del male del mondo figuriamoci se la Madonna poteva andare a fare a rifare il peccato originale con la luce che aveva manco morta cioè per lei no per una persona che ha recuperato lo stato di giustizia originale sento una versione come dire idiosincratica pazzesca fin da quando era bambina ma aveva illuminato la causa del male ed avevo voluto per quanto era il mio potere cancellare da me la traccia di Satana su questo tutte quante le persone che si sentono chiamate alla verginità riflettano la verginità è un dono immenso perché se tu vivi da vergine tu comunque cancelli in te per quanto possibile la traccia di Satana ecco perché la chiesa ha sempre tenuto in altissima considerazione la verginità che oggi è disprezzata anche da chi dovrebbe apprezzarla perché pare che è santo soltanto il matrimino una volta cioè si passa sempre dagli estremi una volta erano santi soltanto vergini monaci e monache ora sono santi soltanto gli sposati e si poraci ste pori suori ste pori religi ste pori preti che hanno la moglie sono mezzi repressi perché che campo ha fa ma dico ma stiamo scherzando stiamo io non sapevo di essere senza macchia continua Maria non potevo pensare di esserlo perché il solo pensarlo sarebbe stata presunzione superbia ma anche perché attenti a quello che dice nata da umani genitori non mi era lecito pensare che proprio io ero l'eletta ad essere senza la macchia guardate l'intelligenza sono nata da genitori umani e chi nasce da genitori umani è spacciato chi nasce nel modo con cui nascono tutti gli esseri umani non c'è nessuna possibilità che non contragga il peccato originale nessuna lo spirito di Dio mi aveva istruito sul dolore del padre davanti alla corruzione di Eva attenzione il dolore del padre davanti alla corruzione di Eva che aveva voluto avvenire se creatura di grazia ad un livello di creatura inferiore vedete era in me l'intenzione di addolcire quel dolore riportando la mia carne andate che dopo uno a me mi va a dire perché credete scritti di Maria Valtorta perché se questa non è la madonna in persona ma proprio in persona questa è proprio lei per quanto mi riguarda io non sono Leonardo Maria Pompei non sono un prete non sono nessuno cioè io quando leggo quando ascolto queste cose proprio sono certissimo interiormente che la madonna è questo pensa così parla così senza nessunissimo dubbio riprendo scusate se era in me l'intenzione di addolcire quel dolore sentite riportando la carne mia alla purezza angelica conservarmi conservarmi inviolata da pensieri desideri e contatti umani solo per lui il mio palpito d'amore solo a lui il mio essere questa è la quinta essenza della verginità perché la verginità non è una vita senza amore ma è una vita con l'amore a mille perché ha vissuto totalmente la dimensione della della carità soprannaturale in quanto amore a Dio con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le forze più di quanto possa viverla una persona che vergine non è ma se non era emersione di carne era però ancora il sacrificio di non essere madre avevo fatto questa cosa però sapevo che non sarei stata madre attenzione la maternità priva di quanto ora la avvilisce era stata concessa dal padre creatore anche ad Eva attenzione dolce e pura maternità senza pesantezza di senso ricordiamo quello che aveva detto Gesù nello scritto precedente lo rileggo a propagare la stirpe umana basterà il mio amore che circolerà in voi senza libidine di senso è qui la madonna chiosa dolce e pura maternità senza pesantezza di senso io l'ho provata la madonna così è diventata madre di quanto si è spogliata Eva rinunciando a questa ricchezza vedete che qui la madonna lascia intendere tra le righe che ci sarebbe stata una concezione degli esseri umani nel grembo di madre quindi ci sarebbe stata una maternità ed anche una vera paternità perché per essere veramente padri non è necessario la dimensione biologica ma scusate ma quanta gente quanti maschi hanno figli sparsi nel mondo e non stanno manco ad averceli scusate il discorso della paternità dell'uomo anche guardando a San Giuseppe che cos'è essere padre per un uomo non per una donna per una donna è chiaro che il bimbo lo porta nel grembo e così sarebbe stato anche con l'altra generazione ma per un uomo che cos'è essere padre cioè che tuo figlio sia figlio biologico ma che forse ti assomiglia forse un pochino somaticamente tutto qui o che se vai a fargli l'esame del DNA ha 23 cromosomi tuoi oltre a 23 della madre e con questo di quanto si è spogliata Eva rinunciando a questa ricchezza attenzione più che dell'immortalità dice Maria cioè rinunciare a divenire madre in maniera così sublime è una perdita più grande dell'immortalità cioè ma dici ma ma dico ma 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 ci rendiamo conto più dell'immortalità e non vi paia esagerazione continua il mio Gesù e con lui io sua madre abbiamo conosciuto il languore della morte io il dolce languore di chi stanco si addormenta qui la Madonna parla della sua morte ma ci vogliono le virgolette per la morte di Maria perché la Madonna si è addormentata ed è rimasta tre giorni in un sonno statico prima dell'assunzione ma non ha avuto la morte cioè la sua anima non si è mai completamente staccata dal suo corpo comunque io il dolce languore di chi stanco si addormenta egli l'atroce languore di chi muore per la sua condanna Gesù è morto veramente invece l'anima di Gesù si è staccata dal suo corpo ed è rimasta separata dal suo corpo per circa 36 40 ore l'anima della Madonna no ma Gesù è morto di morte violenta quindi è morto veramente il cuore ha cessato di battere il cuore di Gesù il cuore della Madonna mai il cuore immacolato di Maria non ha mai cessato di battere mai da quando è stato creato è una bella cosa questa qui dunque anche a noi è venuta la morte ma la maternità senza violazione di sorta è venuta a me sola Eva Nuova Eva Nuova attenzione Eva Nuova qui tutti quanti i negatori della corredenzione si andassero a studiare tutti quanti i padri della Chiesa da Sant'Irano in poi la coppia Adamo Eva e Cristo Maria antico Adamo antica Eva nuovo Adamo e nuova Eva Eva Nuova perché io potessi dire al mondo di quale dolcezza fosse la sorte della donna chiamata ad essere madre senza dolore di carne e il desiderio di questa pura maternità poteva essere ed era anche nella vergine tutta di Dio poiché essa è la gloria della donna adesso non si può più se sei vergine non sei madre e se sei madre non sei vergine ma nell'Eden e in Maria tu potevi essere e vergine e madre se voi pensate poi in quale onore era tenuta la donna madre presso gli israeliti vedete che presso gli israeliti chi non era madre era feccia essere completamente inutile già le donne erano maltrattate ma poi se non eri madre eri proprio zero meno che zero se voi pensate poi in quale onore era tenuta la donna madre presso gli israeliti ancora più potete pensare quale sacrificio avevo compiuto consagrandomi a questa privazione ora la sua serva l'eterno buono dava questo dono senza levarmi il candore di cui mi ero vestita per essere fiore sul suo trono ed io ne giubilavo con la duplice gioia di essere madre di un uomo e di essere madre di Dio gioia di essere con lei per cui la pace si rinsaldava fra cielo e terra o aver desiderato questa pace per amore di Dio e di prossimo e sapere che per mezzo di me povera ancella del potente essa veniva al mondo o uomini non piangete più io porto in me il segreto che vi farà felici non ve lo posso dire perché è sigillato in me nel mio cuore come ha chiuso il figlio nel seno inviolato ma già ve lo porto fra voi ma ogni ora che passa è più prossimo il momento in cui lo vedrete e ne conoscerete il nome santo gioia d'aver fatto felice il Dio gioia di credente per il suo Dio fatto felice o l'aver levato dal cuore di Dio l'amarezza della disobbedienza di Eva della superbia di Eva della sua incredulità tre peccati di Apatueva vedete il peccato complesso il peccato originale questo c'era arrivato anche San Tommaso d'Aquino disobbedienza perché è stata una trasgressione Gesù aveva detto Dio aveva detto non ti accostare a questa conoscenza non ti ci devi accostare e già nel dare retta al diavolo e entrare in dialogo su questo argomento già stavamo un pezzo avanti la superbia diventare come Dio capiamo anche il diventare come Dio adesso qui lo sentiremo dire proseguo un attimo la la lettura e poi incredulità non ha creduto all'amore di Dio cioè che privarsi di quella conoscenza era stato un atto di amore rivoltogli dal Signore allora il mio Gesù ha spiegato di quale colpa si macchiò la coppia prima io ho annullato quella colpa rifacendo al ritroso per ascendere le tappe della sua discesa il principio della colpa fu una disobbedienza non mangiate non toccate quell'albero aveva detto Dio e l'uomo e la donna i re del creato che potevano di tutto toccare e mangiare qualche di quello perché Dio voleva non renderli che inferiore agli angeli non tennero conto di quel divieto la pianta il mezzo per provare l'obbedienza dei figli che cos'è l'obbedienza al comando di Dio è bene perché Dio non comanda che il bene e che cos'è la disobbedienza è il male perché mette l'animo nelle disposizioni di ribellione su cui Satana può operare Eva va alla pianta da cui sarebbe venuto il suo bene con lo sfuggirla o il suo male con l'avvicinarla ti va trascinata dalla curiosità bambina di vedere che avesse in sé di speciale dall'imprudenza che le fa parere inutile il comando di Dio dato che lei è forte e pura regina dell'Eden in cui tutto le obbedisce e in cui nulla potrà farle del male la sua presunzione la rovina la presunzione ha già lievito di superbia alla pianta trova il seduttore il quale alla sua inesperienza alla sua vergine tanto bella inesperienza alla sua maltutelata da lei inesperienza canta la canzone della menzogna e qui sentite bene la canzone della menzogna come gliel'ha cantata bene Satana tu credi che qui sia del male? no Dio te l'ha detto perché vi vuole tenere schiavi del suo potere credete di essere re il dominio non siete neppure liberi come lo è la fiera attenzione come lo è la fiera ad essa è concesso attenzione di amarsi di amore vero non a voi loro si amano di amore vero quanta gente pensa che l'amore vero oggi sia quello non a voi voi non chiamate di amore vero perché quello non si fa ad essa è concesso di essere creatrice come Dio attenzione diventerete come Dio no? quella è creatrice li fanno i figli essa genererà figli la fiera e vedrà crescere a suo piacere la famiglia non voi a voi è negata questa gioia a che prova dunque farvi uomo e donna se dovete vivere in tale maniera siate dei non sapete quale gioia è l'essere due in una carne sola che ne crea una terza e molto più terze non credete alle propesse di Dio di avere gioia e di prosperità vedendo i figli crearsi nuove famiglie lasciando per esse padre e madre perché Dio glielo aveva promesso che avrebbero avuto figli e che si sarebbero cresciuti e moltiplicati ma non gli aveva detto come vi ha dato una larva di vita la vita vera è di conoscere le leggi della vita allora sarete simili a Dei e potrete dire siamo tuoi uguali commento c'è da commentare e la seduzione è continuata perché non vi fu volontà di spezzarla ma anzi volontà di continuarla e di conoscere ciò che non era dell'uomo ecco che dell'albero proibito diviene alla razza realmente mortale perché dalle sue rame pende il frutto dell'amaro sapere che viene da Satana il male e la donna attenzione diviene femmina e col lievito della conoscenza satanica in cuore va a corrompere Adamo serve che commento cosa significa che la donna diventa femmina è iniziata al sesso perdonatemi lo conosce sa cos'è prima non sapeva cosa fosse una persona e sappiate che esistono anche oggi persone di questo genere che non ha mai come dire assecondato o portato a termine oggi è un pochino difficile ma non impossibile l'eccitazione degli organi genitali non lo sa che cos'è non lo sa una persona che non ha mai avuto un rapporto sessuale se lo puoi immaginare che cosa sia perché oggi insomma lo vuole andare a vedere ma non sa per esperienza cosa sia non lo sa avvilita così la carne corrotto il morale degradato lo spirito conobbero il dolore e la morte dello spirito privato della grazia e della carne privata dell'immortalità e la ferita di Eva generò la sofferenza che non si placherà finché non sarà estinta l'ultima coppia sulla terra il brano prosegue perché Maria adesso poi spiega il suo percorso anti-Eva quindi come ha rovesciato il percorso di Eva quindi è una sezione distinta quindi colgo l'occasione che siamo quasi arrivati ai 60 minuti che sono il limite canonico di una catechesi anche a tema e quindi ci mettiamo punto credo che già con questa sera abbiamo ricevuto tanta roba ora rileggiamo questa roba recepiamo questa roba alla luce delle catechesi precedenti che non è che sono state fatte così tanto per non fare niente ma per comprendere come questa rivelazione che a una persona potrebbe sembrare ma che è sta roba non cade dal cielo ma riapre un dibattito che ha caratterizzato i primi otto secoli della storia della chiesa con fior di padri della chiesa del calibro di quelli che abbiamo trattato e che di questo avevano discusso su questo avevano pensato e erano giunti alle conclusioni quelle che potevano avere ma che sono perfettamente coerenti anche se non del tutto identiche a quelle che il Signore ha cominciato a mostrarci e a rivelarci ci vediamo se ti vuole la prossima settimana per proseguire il nostro cammino Dio vi benedica e la Madonna vi e la prossima settimana e la prossima settimana